L'introduzione del braccialetto elettronico a Rezzo è stata la prima in Italia per monitorare le condizioni dei pazienti Covid al loro domicilio darà una grossa mano a tutto il sistema sanitario. Il dispositivo, per ora ne sono stati acquistati 200, servirà anche ad evitare accessi inutili al pronto soccorso e avere di contro dimissioni più protette. Certo, allevare la pressione sul pronto soccorso è fondamentale e questo è un sistema che si aggiunge a tutti gli altri. Abbiamo messo su per impedire quello che è successo in altre zone, sono stati addirittura chiusi il pronto soccorso per l'eccesso di arrivi. Direi che è fondamentale la collaborazione fra tutti gli attori coinvolti nella gestione del Covid, il territorio, il 118, i reparti, le reparti pneumologici e malattie infettive ci hanno assorbito un gran numero di pazienti prendendoli anche direttamente dal territorio senza farli passare dal pronto soccorso. Questo è un ulteriore tassello che si aggiunge con la possibilità di reinviare a domicilio pazienti che arrivano in pronto soccorso con sintomi lievi e con Covid positivi che possono essere rinviati a domicilio in sicurezza perché dal remoto riusciamo a gestirli e a controllare le effettive condizioni cliniche. A volte ci sono pazienti che pur stando benino hanno un'ansia, una preoccupazione molto marcata per cui riuscire a dirgli in sicurezza, ma andiamo a casa, però riusciamo a vedere momento per momento come vanno i parametri, ecco credo sia un vantaggio notevole per i pazienti e anche per noi. L'ospedale di Arezzo, ospedale Covid, ha retto bene a questa seconda ondata, molto più cruenta della prima. L'invito dei sanitari è quello di affidarsi comunque alle cure dei sanitari perché in questo periodo invece paradossalmente gli accessi al pronto soccorso sono stati sin troppo bassi con pazienti che si sono acutizzati al loro domicilio. È bene dunque ricordare che i percorsi sono ben distinti. Ma come ho detto altre volte appunto siamo riusciti a reggere a questa seconda ondata che francamente mi ha preoccupato più della prima. All'inizio ero estremamente preoccupato perché i numeri stavano crescendo con una rapidità a cui non eravamo abituati. Abbiamo potuto reggere a questa seconda ondata non solo per la collaborazione di tutti come dicevo, ma anche perché c'è stato un calo di presenza in pronto soccorso delle persone diciamo normali, cioè senza Covid, no Covid. C'è stato un calo significativo, direi anche troppo, perché abbiamo avuto casi di persone con patologie importanti tipo uno stroke che sono arrivate dopo due giorni perché hanno aspettato che gli passasse e in altri momenti sarebbero venuti immediatamente in pronto soccorso. Il consiglio è quello di utilizzarlo al meglio, ovviamente non per le cose molto lievi, ma appena uno ha un disturbo un pochino più serio e se ne accorge davvero qualcosa che va controllato e di venire comunque in pronto soccorso perché ci sono percorsi separati e non si rischia di infrenarsi con i pazienti positivi.